L'Onorevole Luciano D'Alfonso ha espresso tutto il disappunto a proposito dell'interruzione dei lavori che interessano la Fondo Valle Sangro, autostrada senza pedaggio che ha l'obiettivo di collegare l'Adriatico al Tirreno. Il progetto, curato da Regione Abruzzo e da Anas con 190 milioni di euro, prevedeva la pubblicazione di un bando di gara entro il 2018, ma avviati i lavori, il cantiere arriva solo al 51% del contratto. Le cause dell'interruzione, secondo quanto esposto dal deputato PD, sarebbero da ricercare nell'aumento dei prezzi e nelle sorprese emerse dal cantiere. Si blocca l'attività di cantiere a causa dell'emersione di una faglia di gas metano proveniente da 2000 metri di profondità. C'è bisogno di far curare e definire una perizia di variante per almeno 20 milioni di euro di copertura. C'è bisogno, questa perizia, che generi un rinnovamento contrattuale con i nuovi prezzi che serviranno alla luce anche dell'aumento dei prezzi. C'è bisogno di far ricominciare l'attività di produzione di cantiere e non farla fermare più. Perché quest'opera, se si ha fra due anni, una volta completata o fra dieci anni, fa la differenza per le economie della regione Abruzzo, di questo grande distretto del centro dell'Italia che vede il nostro sistema dell'automotive, che ha bisogno di questa strada per trasportare la sua produzione industriale. Noi vogliamo che sul tema della Fondo Valle Sangro, che è un'autostrada senza pedaggi che unisce i due mari, ci sia da parte della regione attuale in scadenza lo stesso impegno che la regione ha messo per la Napoli Calcio a Castel di Sangro. Riunioni, comunicati, colloqui ravvicinati, incontri confidenziali, spintonamenti, quel tipo di atteggiamento serve anche per raggiungere risultati infrastrutturali come la Fondo Valle Sangro.